Ritagliarsi un momento per bere una tisana durante la giornata. È una coccola e un piacere per il palato. Abbiamo più di 100 piante spuse per preparare le tue tisane personalizzate. Oppure, se preferisci la comodità delle bustine, abbiamo più di 50 gusti differenti di tisane in filtro. A base di frutta, quindi buone da bere, ideali per tutta la famiglia, oppure anche più funzionali, come per esempio la nuova coccola digestiva. Ma la novità delle tisane filtro-scrigno di neavita è che sono dei filtri piramidali molto attenti sia nel contenuto, perché contengono piante biologiche, ma anche nel contenitore. La bustina non è sbiancata, non è trattata, non contiene colla o punti metallici ed è completamente biodegradabile per fare bene a chi la beve e anche all'ambiente.